Siamo pronti per annunciare l'ultimo incontro di questa serata sale sul ring l'arbitro signor Rodolfo Meoni incontro disciplina Muay Boxing categoria 91 kg chiamiamo sul ring all'angolo blu 18 incontri disputati, 14 vittorie e 4 sconfitte per lui, campione del mondo WFC disciplina K1 Rules per il team Mazzocchi Fighting School da Garbia Egitto, residente a Roma Abdelaziz Shain Khaled Abdelaziz Shain Khaled Contro di lui all'angolo rosso 17 incontri disputati 11 vittorie, 4 sconfitte e 2 pari per lui già campione italiano amateur discipline K1 Rules e Muay Thai per il team Oltre Corpo da Lecce Enrico Pellegrino actory 9 C- C- Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!